Oltre alla stagione teatrale per gli adulti si conferma anche quest'anno la rassegna le domeniche a teatro per le famiglie che inizierà a gennaio e manterrà i suoi quattro titoli e si conferma anche l'appuntamento per le scuole quindi la rassegna all'isola, al teatro, ai giovani per i ragazzi di tutti gli ordini e gradi quindi si partirà dalle materne, quindi dalla scuola dell'infanzia per arrivare alle scuole superiori. Per quanto riguarda prezzi di biglietti per tutte le rassegne sono rimasti invariati quindi anche il costo degli abbonamenti per la rassegna serale e dei biglietti e anche per le domeniche a teatro e per le scolastiche.